La prima cosa che voglio capire è domani sentendo misteriezzo capire perché lui è venuto qua con grandi auspici per vedere questa squadra e quindi sentirò insieme alla proprietà questa situazione. Nel caso direttore richiamerete Chianese oppure farete un'ulteriore valutazione su un terzo allenatore? Guardi, riferisco la frase che mi è stata detta a nome della proprietà, assolutamente no, noi oltre a guardare l'aspetto tecnico e di questo al momento chiediamo scusa ma cerchiamo anche persone e figure che abbiano lo stesso metodo mentale della proprietà. Quindi no a Chianese? Sembra di essere stato chiaro. Quindi un no secco al ritorno di Chianese, questo lo possiamo dire? Assolutamente no, gli amori quando finiscono bisogna divorziare.